Andiamo a vedere come abbiamo creato questo nuovo sottotetto in centro storico a Verona. Saliamo la scala in legno ed ecco qui entriamo in questo bellissimo sottotetto dove qui ci sarà la zona giorno dell'appartamento. Abbiamo le due finestre, il piano, questo solaio, i tre velux, quelli lì, uno, due, tre. In fondo metteremo la cucina, qui il soggiorno e gli scaldatori, quelli lì, nelle pareti e anche qui non si vedono la parete. Tutta la casa è stata finita a calce, lì c'è la disposizione per una stufa a biomassa e tutta la struttura è stata realizzata in legno, pilastri e il solaio compresi.